Giulia Quattrociocche ha scelto all'improvviso Daniele Schiavon Ecco la reazione della non scelta Alessandro Basciano Uomini e Donne. Giulia ha fatto la sua scelta lo sapevamo già Anticipazioni che si sono rincorse nel web nelle ultime settimane, ma Giulia Quattrociocche ha fatto la sua scelta all'improvviso La puntata è andata in onda lunedì 2 dicembre Tuttrice, avendo capito che Giulia era arrivata ormai ad una conclusione, l'ha riempita di Domande su di lei, le sue sensazioni, su Alessandro e Daniele Antepoi Maria stesse andando avanti con la puntata, Alessandro ha interrotto tutti per dire Che era giusto che Giulia potesse fare quello che sentiva di fare La tronista ha ammesso che non voleva prendere in giro nessuno, ma che voleva andare Via dal programma, perché ha capito di provare un sentimento per Daniele Quest'ultimo si è alzato e l'ha baciata e la nuova coppia ha ballato sotto i petali russi e la musica Nel frattempo, Alessandro era molto commosso e dispiaciuto per quello che stava succedendo davanti ai suoi occhi all'improvviso Consolato e ha ballato con lui, appena prima di prenderlo con sé sulle famose scale Parlando con Raffaella Mennoia, autrice del programma, ha detto che parleranno dell'eventualità di un trono per lui L'azione di Alessandro dopo la scelta al momento, come da lui stesso dichiarato, Alessandro E' un tronista di uomini e donne Tavia, l'ex corteggiatore ha preferito evitare l'argomento in questi giorni Dopo la puntata della scelta, Alessandro ha pubblicato un post in cui ha detto qualche parola sulla sua esperienza Tramma. Le delusioni aprono gli occhi e chiudono il cuore e ma tutto ciò che mi dà la forza di Andare avanti siete voi e la mia felicità e il reperimento è, ovviamente, al suo bambino e al cane, presenti nell'affonto L'ex corteggiatore ha parlato di forte delusione perché proprio nel momento in cui si sentiva Su è deciso a voler lasciarsi andare, Giulia ha scelto Daniele Alessandro riuscirà a voltare pagina Si siederà sul trono L'amicizia con Jack Vanore Alessandro è Grande amico di Jack Vanore, opinionista del trono classico di uomini e donne Mentre stava andando in onda la puntata della scelta di Giulia, Jack era in compagnia di Alessandro e Ha pubblicato una Instagram story sui social in cui lo inquadrava con una faccina triste e ha scritto Non era destino Poi gli ha dedicato un post in cui ha scritto È solo una brutta giornata, non una brutta vita Oh, 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 oh Grazie a tutti.